Grazie per supportare il nostro canale. Vista la scelta di allontanarsi dal mondo del gossip e della televisione, quando Maria De Filippi ha scelto lei per il trono classico non aveva neanche i social. Poi si è iscritta e a quanto pare ora le piacciono Giulia Quattrociocchi e il profilo privato su Instagram. Però, e con pochi follower, insomma, sembra a tutti gli effetti il profilo di una persona qualunque che non accetta fan e curiosi tra i suoi follower. Se il suo profilo è privato, lo stesso non si può dire di quello di un negozio dove si è recata in questi giorni. Giulia è andata a fare shopping in questo negozio e chi ci lavora non ha potuto fare a meno di fotografarla e postarla. L'hanno definita un ospite speciale, chissà se per il suo trascorso a uomini e donne o perché. Magari, è una cliente fissa e affezionata. Fatto sta che le foto sono state intercettate da qualcuno che ha riconosciuto l'extronista Giulia Colpancione e ha subito segnalato la cosa a Newsweb, che ha postato gli scatti. Negli scatti diffusi non dovrebbero esserci dubbi, in realtà, Giulia Quattrociocchi ha un bel pancione nelle foto. Sia in quella condivisa da lei, ma ancor di più nella foto condivisa dal negozio. Che l'ha inquadrata di profilo. L'abito che indossa inoltre è bello aderente. Questo lascia intravedere il pancino sospetto. Ma non solo, perché a evidenziare ulteriormente il pancino sono le righe del vestito. Insomma, stavolta Giulia Quattrociocchi potrebbe essere incinta davvero. Non come un anno fa circa. Quando è stata investita da questo gossip ma ha provveduto subito a smentire. Farà lo stesso? In attesa di scoprirlo. Ricordiamo che Giulia è stata un'atronista di Uomini e Donne nel 2019. Aveva scelto Daniele Schiavone nel giro di pochi mesi. A metà novembre erano già una coppia. Sembravano anime gemelle, invece a marzo del 2020 è giunta la notizia della rottura. No script zrxet uguale htps, due punti, slash slash, www gossipetvconvpcontentuploads barra 2021 09 barra Giulia Quattrociocchi incinta. Ilunga pg 284 w, htps, due punti, slash slash, www gossipetvconvpcontentuploads barra 2021 09 barra Giulia Quattrociocchi incinta 170 x 300. Ilunga pg 170 w, sizzes uguale, max width, 284 px, 100 w, 284 px noscript src uguale data, image svg più xml. Per 103 csvg per 120 xml n s uguale per 122 htp, due punti, slash slash, www w3 org barra 2000 barra svg per 122 diviso per 20 vbox uguale per 120 diviso per 200 diviso per 20.284 diviso per 20.500 diviso per 22 diviso per 3 per cento 3 csvg per cento 3 e data data zrxet uguale htps. htps, due punti, slash slash, www gossipetvconvpcontentuploads barra 2021 09 barra Giulia Quattrociocchi incinta ilunga pg 284 w, htps, due punti, slash slash, www gossipetvconvpcontentuploads barra 2021 09 barra Giulia Quattrociocchi incinta 170 x 300. Ilunga pg 170 w data zzz uguale, max width, 284 px, 100 w, 284 px. Ilunga pg 284 px, 1 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 px